Ciao a tutti amici neroazzurri, bentornati sul canale. È una post partita un po' particolare, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che non fa mai piacere perdere, non fa mai piacere uscire da una competizione, tra l'altro una competizione che ci vedeva detentrici del titolo, o detentori del titolo, vedete voi cosa mi preferite, se è il maschile o il femminile, in una partita che tra l'altro abbiamo condotto, non dico dominato ma condotto, abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, noi le abbiamo sfruttate, la prima sfruttata sembrava nei supplementari quella decisiva, dopodiché quel gol un po' casuale dell'1-1 ci ha un po' spezzato le gambe, gli ultimi 5 minuti probabilmente pensavamo di portarla ai calci di rigore, invece abbiamo cercato di vincerla e nel momento in cui ci siamo sbilanciati, avendo dentro anche tante seconde linee, abbiamo preso, e tanti giocatori stanchi che hanno giocato tanto e hanno giocato anche dal primo minuto contro il Bologna, abbiamo preso quella ripartenza con i due giocatori più talentuosi e più freschi del Bologna che ci hanno condannato all'eliminazione. Allora, che dire, post partita, il giorno dopo io non mi sento così male sinceramente, dopo due anni di vittoria in Coppa Italia si può anche fare a meno di vincere la Coppa Italia, so che ci sono i puristi che dicono che l'Inter è l'Inter, è la squadra più forte, deve puntare sempre a vincere, deve vincere sempre, bla bla bla. Allora, diciamo, uno, sì, è vero, bisogna puntare sempre a vincere, assolutamente sì, due, però ci sono delle priorità, tre, adesso ne parliamo, tre, diciamo che dopo due anni di vittoria in Coppa Italia forse è meglio non vincerla, se proprio non la si deve vincere, forse è meglio non vincerla negli ottavi di finale, perdendo col Bologna in quella maniera lì, piuttosto che magari non vincerla giocando altre tre partite con la semifinale che è andata in ritorno e sprecare tante energie in vista degli impegni che sono più importanti per noi quest'anno, che hanno la priorità, ovviamente in primis il campionato, la Champions League e perché no anche la Supercoppa Italiana, che porta anche tanti soldi in cassa, perché chi vince la Supercoppa Italiana a gennaio prende 7 milioni di euro e non fa assolutamente schifo, quindi diciamo che per quanto mi riguarda, poi voglio sentire anche le vostre opinioni, leggerle, è un po' amara questa sconfitta anche perché abbiamo giocato 120 minuti, anche perché adesso andiamo sul discorso Lautaro, molti giocatori sono stancati, alla fine tutta questa stanchezza, tutta questo spreco di energie si è risolto in una sconfitta. Detto questo io riesco a vedere il lato molto positivo della cosa, abbiamo vinto le ultime due Coppa Italia, non credo che l'obiettivo di quest'anno fosse, sì l'obiettivo è sempre vincere, va benissimo, questo è al suo dato, però non credo che l'obiettivo principale di quest'anno, comunque l'obiettivo a cui non si potesse rinunciare fosse vincere la terza Coppa Italia di fila, certo poi se la vinci va benissimo, però dopo due di fila non credo che fosse quello l'obiettivo. Anche se abbiamo gestito la partita con il Bologna, Inzaghi e la società, tutti hanno gestito la partita con il Bologna comunque per vincerla, quindi senza mettere in campo tutte le riserve. E quindi vi dico, il mio umore non è negativo, anche perché la partita è stata giocata bene, secondo me, l'Inter ha giocato un'ottima partita e meritava di vincere, contro un Bologna in forma, contro un Bologna che è quarto in classifica, contro un Bologna che ha dei giocatori di tutto rispetto, che è vero, ha fatto turnover, anche Tiago Motta ha fatto turnover, quindi anche Tiago Motta guardava al campionato. E poi comunque si è preso, e mi approfitto anche per fare i complimenti a Tiago Motta, al Bologna, alla società Bologna, per i risultati che stanno ottenendo e per la partita vinta e la qualificazione. Però non la vivo così male. La cosa che, secondo me, però, si poteva evitare era il rischio infortuni. Cioè, anche se avessimo vinto, adesso siamo usciti e quindi oltre al danno la beffa, ma anche se avessimo vinto, per me, come abbiamo fatto con la Champions, era fondamentale preservare la partita con il Lecce. Quindi tutti i giocatori necessari per il campionato, secondo me, dovevano riposare, o comunque riposare parzialmente, non che non dovessero giocare mai, ma giocare non troppo per preservare Lecce e Genoa, che sono le ultime due partite prima del 2024. Quindi io, come nel titolo, vi chiedo, e mi chiedo, si poteva evitare quello che poi è successo a Lautaro? Allora, nel momento in cui vi sto parlando, vi sto registrando il video, non so ancora quali saranno gli esiti degli esami di Lautaro. Sembrava fino a stamattina che addirittura Lautaro non dovesse fare gli esami perché sembrava che fosse una cosa da niente. No, tutti buttavano acqua sul fuoco, non è niente, non è niente, ha solo un affaticamento, non fa neanche gli esami, invece poi viene fuori che Lautaro deve fare gli esami. Abbiamo già tanti giocatori fuori. Può varia che è tornato, ma è appena tornato. Abbiamo fuori De Vrij, abbiamo fuori Dunfris, abbiamo fuori Sanchez, abbiamo fuori per sempre probabilmente Quadrado. Adesso si fa male Lautaro. Io mi dico e mi chiedo, si poteva evitare l'infortunio di Lautaro? Per me sì, per me sì. Al di là del rigore, non rigore, voglio di segnare, non voglio di non segnare, di essere decisivo. Lui secondo me è stato decisivo anche ieri, ha giocato una grande partita, poi ha sbagliato il rigore, ci può stare. Può capitare anche perché lui, diciamocelo chiaramente, dal dischetto non è infallibile. Lo sappiamo tutti, ha tirato 20 rigori, ne ha sbagliati 7, e che sono tanti, 7 su 20 sono tanti. Non è un rigorista Lautaro, cioè non ha i numeri davvero rigorista. Non può essere perfetto. Però va bene, è il secondo rigorista dell'Inter, dopo c'è la Novu e va benissimo, così può capitare. Ma l'infortunio era la cosa da evitare. Non ho capito perché Lautaro è stato in campo 100 minuti, prima di farsi male. 100 minuti! Un giocatore che gioca sempre, che è fondamentale per questa squadra. 100 minuti! Lautaro, come tanti altri, sta giocando tantissimo, non è il caso di rischiarlo così, per quello che mi riguarda e per quello che penso io. Poi col senno di poi è tutto facile, poi non si fa male e tutti dicono va bene, però quello che mi aspettavo io era una formazione molto di seconde linee, composta da molte seconde linee, e addirittura, come dicevamo nei video scorsi, Klassen seconda punta, o Sensi seconda punta, dietro Arnautovic, che, tra parentesi, non mi ha convinto neanche stavolta. E tra parentesi, ripeto, lo dirò sempre, bisogna prendere una punta per me a gennaio, una vera punta. Vabbè, e vediamo. Quindi, mi aspettavo un Lautaro che giocasse la mezz'ora finale, o il primo tempo, poi magari facendo la staffetta con Turam, ma non primo tempo, secondo tempo, supplementari. Poi è successo quello che purtroppo sta succedendo a tanti giocatori, non solo all'Inter. Cioè, tanti giocatori si fanno male, si infortunano a livello muscolare, perché giocano tanto, adesso fa pure freddo, ci sono tante partite, il rischio, poi Lautaro adesso non è uno che si risparmia, è uno che corre dietro a tutti, anche l'altro giorno, anche ieri sera, ha recuperato un sacco di palloni, è andato a recuperare palla, pressava, recuperava palla, faceva ammonire, andava verso la porta, rubando palla al difensore centrale, non si risparmia, Lautaro non sta lì a guardarsi in giro, e poi se gli capita l'occasione fa gol. No! Lui corre, lui va, lui pressa, lui aggredisce, sforzo fisico, ogni due giorni, 100 minuti no, 100 minuti no, ma proprio no, ma se mi avessero detto, guarda che Lautaro giocherà 100 minuti prima della partita, io sinceramente avrei riso, non avrei mai pensato che potesse essere una cosa vera, 100 minuti no, perché queste cose in questo momento vanno evitate, adesso io non so cosa succederà a Lautaro, non so quali saranno gli esami, non so se per il Lecce è già comunque esclusa dalla sua presenza, o se magari, se non ha niente, può recuperare per il Lecce, ma il Lecce è una squadra comunque di tutto rispetto, e ci vogliono i migliori per fare i tre punti, Lautaro 100 minuti col Bologna, no, 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 cioè non lo pensavo mai, pensavo addirittura che partisse dalla panchina, quando lo visse titolare, ha detto, vabbè, hai 45 minuti, poi fuori Lautaro dentro Turan, o fuori Lautaro seconda punta Mkhitaryan, ma no, 100 minuti Lautaro, quindi io vi ho fatto la domanda sul titolo, secondo voi si poteva evitare? Secondo me, sì, fino adesso abbiamo gestito il turnover nel migliore dei modi, abbiamo a Zaghi gestito il turnover nel migliore dei modi, questa mossa qua di Lautaro in campo così tanto, in una partita di ottavi di finale di Coppa Italia infrasettimanale nei due gradi di San Siro, per me era una cosa che non aveva proprio senso di essere. non lo dico col senno di poi, avete i video precedenti in cui dico questa cosa, per me è stata una cosa che non si doveva fare, quindi lo chiedo anche a voi e anche se poi ovviamente so già le vostre risposte perché quello che è successo col senno di poi poi ovviamente è tutto più facile, però insomma e quindi bisogna stare attenti e a maggior ragione insisto per l'ultima volta prima di chiudere il video, queste cose però al di là dei 100 minuti, 50 minuti perché può capitare anche che uno si faccia male dopo mezz'ora e quindi non c'entra più il turnover dei 100 minuti, può capitare che uno si faccia male muscolarmente anche dopo 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora e può capitare, capita a tutti, può capitare. Questo dico, se Lautaro adesso sta fuori un po' di partite, una partita, due partite, non lo so, chi gioca? Sanchez non si sa cos'ha, non si sa cos'ha, Sanchez doveva recuperare subito per un affaticamento muscolare, non ha recuperato e in dubbio pure per il Lecce. Arnautovic non dà garanzie, c'è Turam e quindi solo lui e ragazzi a gennaio qua bisogna comprare una punta, ma non una punta a caso, non una quinta punta per rimpinguare il reparto, no, bisogna prendere una punta che dia delle garanzie, che arrivi subito dopo Lautaro e Turam e non li faccia rimpiangere come possono fare invece Arnautovic Sanchez. Quindi l'esempio di Lautaro e di questo infortunio è secondo me calzapennello, quindi ripeto la mia teoria. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se si poteva evitare questa situazione, intanto incrociamo le dita ovviamente per Lautaro e per le visve mediche speriamo che non sia niente di che. Io intanto vi mando un bacio, sempre Forza Inter, mi raccomando ragazzi, non è successo niente, nessun dramma, pensiamo a Lecce. Se volete la notifica dei video qua c'è la campanella, mi raccomando cliccatela, pollice in su se vi è piaciuto questo video anche se le notizie non erano buonissime e poi mi raccomando iscrivetevi al canale che io vi aspetto e poi da gennaio si parte. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter.